Lo so, fallire è terribile, incute paura oserei dire, paura, una paura paurosa di fallire appunto, di essere aditato, indicato da tutti, come quello che ha fallito, che ci ha provato ma poi alla fine non ci è riuscito. Beh, io sono un esperto, sono un esperto nel settore, se tu parlassi con Paola la mia dolce metà ti direbbe che ho fallito tantissime volte, in molte cose, ma è proprio perché ho fallito tante volte che, come dirti, ho imparato delle cose. Sì, lo so, sono ancora in grado di imparare ancora meglio, ma qualche cosa l'ho imparata, qualche cosa l'ho fatta, qualche tentativo, qualche tentativo è andato in porto, come dire, qualche piccolo obiettivo, qualche sogno l'ho raggiunto, e semplicemente perché ho osato, ho fatto quella cosa che la sta grande maggioranza delle persone, magari proprio tu, che mi stai guardando da questo video, non lo sa fare, non tenta, non ci prova, semplicemente perché qualcuno in questa società gli ha detto che fallire è bubu sporco, è una cosa brutta, sporca e cattiva, ma se tu non ci provi mai, hai già fallito in partenza, prima ancora di cominciare, prima ancora di osare, prima ancora di iniziare, hai già fallito, proprio non ci hai provato, eh lo so, ci provo, poi fallisco, brutta figura, mi prenderanno in giro tutti, è vero, capiterebbe, anzi capiterà, anzi è capitato, a me per esempio tantissime volte, ma insomma, fai spallucce, mettiti dietro alle spalle la paura di fallire e tenta, tenta perché è soltanto fuori dalla nostra zona di comfort, dalla nostra zona di agio, che noi possiamo trovare l'opportunità, e dunque le opportunità stanno proprio là dove c'è la parola fallimento, dove tutti hanno timore e paura di arrivare, di toccare, perché alla fine c'è quella brutta, sporca parola che dice, hai fallito, cosa dirti? Io ci ho provato tante volte, moltissime volte le ho fallite, lo ammetto, ti ripeto, sono un grandissimo esperto del fallimento, ma in alcune volte mi è andata bene, ci sono riuscito, ce l'ho fatta, e allora che cosa dirti? Tenta, fallisci, se proprio non ce la puoi fare subito, e riprova, ritenta, non dico che sarai più fortunato o più fortunato, ma dico soltanto che a forza di tentare, ti avvicini sempre di più alla meta, all'obiettivo desiderato, al sogno, al sogno della tua vita, e sì, lo so, tutti intorno a te nel tuo ambito, perché poi sono le persone che ci vogliono bene sono proprio quelle che ci dicono di non tentare, di non provare, di non farcela, ma non so se perché hanno paura che noi ci facciamo del male, o semplicemente perché, non ho idea io, forse non ce l'hanno fatta loro, e vogliono che non ci proviamo neppure noi, non lo so, dipende da caso è caso, ma quello che so è che se tu non ci provi, non tenterai, e magari fallirai, rimarai con un dubbio, e se ce l'avessi fatta? Allora, tenta, prova, e se poi fallisci, pazienza, sono convinto che sarai in grado di rialzarti da terra e di ricominciare. A proposito, hai letto uno dei miei libri? Autostima donne, autostima in 140 caratteri, due libri pieni di fallimento. Un abbraccio.